Sono stabili le condizioni del quindicenne di Colorina, gravemente ferito venerdì a postalesio nel ribaltamento di un trattore sul quale si trovavano quattro adolescenti, tutti minorenni quindi sprovvisti di patente, autori con ogni probabilità di una bravata pagata a caro prezzo. Il mezzo agricolo che percorreva una strada agrosilvopastorale a mezza costa infatti è sfuggito al controllo dei ragazzi, uscendo dalla carreggiata e finendo nel letto di un ruscello. La peggio è toccata al più giovane dei quattro, rimasto schiacciato sotto il trattore e poi trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove i medici mantengono la prognosi riservata anche se il ragazzo non sarebbe più in pericolo di vita. Altri due amici sono stati medicati all'ospedale di Sondrio, il quarto invece è rimasto illeso.